grazie di essere su canal 104 plus il titolo ipnosi per aumentare la paura e controllare le masse in realtà è per comunicarvi che sta uscendo in lingua inglese fine del covid è una serie di documentari una libreria di video con oltre 90 sessioni che racconta la verità terrificante dove big pharma e governi non volevano che il pubblico conoscesse sulla pandemia durante un recente episodio di health ranger report di mike adams alex tech e mike winner i creatori della compilation dei video hanno rivelato come ci hanno fornito scenari e narrazioni di condizionamento mentale per promuovere l'allarmismo e sottomettere il pubblico a qualunque cosa come i protocolli varati dalle autorità sanitarie il fondatore della piattaforma brighton ha menzionato una ricerca svolta da natural news sugli studi dell'ipnosi dove sono stati selezionati individui ipersensibili all'edera velenosa da non confondere con l'edera che conosciamo comunico che l'edera velenosa secondo il corriere della sera è stata scoperta per la prima volta in italia nel dicembre 2022 guarda caso nell'esperimento il ricercatore ha chiesto a queste persone ipersensibili all'edera velenosa di stendere la mano su un tavolo e poi ha detto adesso vi strofinerò una foglia di edera velenosa sulla mano effettivamente il ricercatore lo ha fatto ma non con la pianta velenosa ma le eruzioni cutanee si sono formate comunque la loro mente le ha rese reali in un ulteriore studio il ricercatore fingeva di spegnere una sigaretta accesa sulla pelle di una di queste persone nella realtà aveva usato semplicemente una gomma per cancellare di una matita ma sulla pelle della persona si è formata una reazione simile all'ustione il paziente pensava si trattasse veramente di un'ustione perché perché la mente è molto potente se questo deve spiegare parte di ciò che abbiamo visto durante la pandemia allora è veramente spaventoso perché il potere della falsa autorità nel sistema medico e nei media è molto più incisivo di quanto la maggior parte delle persone creda jack ha consentito di fare questi esperimenti collegandoli anche alle nuove tattiche allarmanti come sta succedendo adesso con la malattia x tutti hanno veramente paura che lancino un'altra arma biologica sulle masse la manifestazione dei sintomi soprattutto in uno stato di paura accentuata è una cosa reale quello che insegnano nel documentario soprattutto negli ultimi moduli entrando nei dettagli sulla brillantezza del corpo umano è per capire che là fuori non c'è assolutamente nulla di cui aver paura secondo jack una volta che le persone diventano consapevoli delle cose possono mantenersi in salute e comprendere che i sintomi della malattia in sé per sé non sono negativi scoprendo che il tuo corpo è un brillante vaso progettato in modo intelligente che sa esattamente cosa dovrebbe fare e che internamente a tutto ciò di cui ha bisogno vivendo nel giusto ambiente e con i giusti nutrienti per guarire fra esattamente quello per cui è stato progettato guarire il film in realtà è destinato a dissolvere la paura diffusa in gran parte di coloro che si occupano di libertà sanitaria in questo momento winner è intervenuto aggiungendo che gli esseri umani nell'era moderna hanno enormi carenze in particolare cellule e minerali salini perché non li abbiamo più nel nostro cibo a causa dell'agricoltura intensiva cosa significa tutto questo dobbiamo dissociarsi dai mass media smettere di lasciarci abbindolare da ansie paure fobie indotte dal sistema compresi anche gli allarmismi della controinformazione tornare liberi gettare nel cestino i device usare i nostri sensi per stare in contatto in modo naturale grazie di aver guardato